A onor del vero e caso mai non si fosse capito dalle parole chiave, questo non è un discorso a scoppio ritardato su Halloween. Oggi infatti vi porto in Pakistan, un paese pieno di contraddizioni e retaggi antichi, spesso non ospitale nemmeno per le donne che vi abitano. Pur trattandosi del sesto stato più popolato al mondo e che conta oltre 200 milioni di abitanti infatti, la società pakistana presenta una forte matrice islamica, inoltre la condizione delle donne risulta piuttosto precaria. Pensate, e questi sono dati di fatto, non è finzione, che le donne pakistane sono in generale sottomesse agli uomini, condannate allo stupro, vengono fustigate, sfregiate con l'acido, esistono ancora i delitti d'onore, ossia gli omicidi in caso di adulterio. Inoltre per risarcire i debiti non è raro che si cedano le figlie minoremmi. Nel 2018 la Commissione per i diritti umani pakistana ha contato 845 casi di violenza ufficiali nei confronti delle donne. Dico ufficiali perché molte vittime non osano farsi avanti e quindi spesso le violenze non sono denunciate affatto. Ebbene, sembra che qualcosa inizi a smuoversi. Ad agosto, infatti, è uscita la serie televisiva True Rails, che ha fatto scalpore nel paese per via di come racconta la vita delle donne. True Rails significa streghe. Vi sembrerà strano forse, ma in realtà è un epiteto usato in Pakistan per etichettare le donne che sono un po' controverse, quelle che non seguono i dettami della società, le ribelli, le reiette, ecco. La trama ruota attorno a quattro donne, anche se non pensate a dinamiche alla Sex and the City perché il contesto è completamente diverso. Donne, ricevo, che mettono su una boutique di lusso di indumenti islamici, quindi veli, burqa e così via. Le protagoniste sono Sara, un'avvocatesza che abbandona la carriera per diventare la perfetta moglie vetrina, Batul, una donna appena uscita di prigione dove ha scontato una pena di vent'anni per omicidio doloso, Yugnu, un'organizzatrice di matrimoni, e Zubaida, una pugile alla disperata ricerca di indipendenza. Le quattro donne decidono di avviare un'agenzia investigativa mirata a cogliere gli uomini in flagrante, soprattutto quando tradiscono le donne, e quindi sotto alla boutique, nei sotterranei, creano un quartier generale con tutto un arsenale di armi e vari strumenti per fare spionaggio. Man mano che la serie va avanti, in tutto ci sono dieci episodi, i temi affrontati però esulano dal semplice adulterio. Le socie dell'agenzia investigativa, protette dall'anonimato garantito dal velo, arrivano a smascherare racket di prostituzione, matrimoni forzati, salvano spose bambine, e si imbattono in tutta una serie di altre tematiche, ad esempio l'omosessualità, il razzismo, il classismo, e anche l'ossessione della società pakistana per la carnagione chiara. La sceneggiatura è stata definita rivoluzionaria per la condizione femminile in Pakistan. Il regista, Asim Abasi, ha affermato che voleva far guardare allo specchio la società per promuovere dei cambiamenti davvero necessari. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Sui social a molti non è andato giù che la serie facesse vedere donne in atteggiamenti ritenuti non consoni, quindi ad esempio donne che fumano, bevono, o addirittura vestite in modo discutibile. Una scena nello specifico ha fatto infuriare gli utenti online. In questa scena una delle protagoniste ammetteva candidamente di essere finita a letto con tutta una serie di uomini per fare carriera. L'ente pakistano responsabile per la regolamentazione dei mezzi di comunicazione di massa ha proibito la diffusione della serie in Pakistan, addirittura vietato alla piattaforma di streaming Z5 di renderla disponibile. A seguito di una pioggia di critiche però, ad ottobre, l'ente regolatore ha fatto marcia indietro e ora la serie è nuovamente disponibile. In ogni caso la maggioranza degli pakistani e delle pakistane l'aveva già vista perché avevano guardato la versione piratata. In un'intervista al cast, che trovate tranquillamente su YouTube, le attrici si sono dette contente e orgogliose della serie e dei loro ruoli. Sono infatti convinte che sia possibile sdoganare la nomea di True Rails facendo la propria e di fatto dicendo che a noi la società così non va bene e adesso vogliamo fare qualcosa in merito. Speriamo quindi che questa serie riesca ad aprire gli occhi della società e ad avviare un dialogo sui problemi che la affliggono. Detta come va detta, le elevate di scudi ci saranno sempre e comunque, ma servono anche persone audaci, pronte a mettere in discussione gli schemi mentali e i comportamenti consolidati. Inoltre, ancora una volta, il mondo dell'arte si dimostra davvero all'avanguardia nella lotta per la parità di genere. Grazie.